Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. I fan di Andreas Muller e Veronica Peparini sono stati recentemente colpiti da un'ondata di preoccupazione dopo l'annuncio di una complicazione nella gravidanza di Veronica. La coppia, che aveva inizialmente celebrato l'attesa delle gemelle Alice e Vittoria con un'apparizione a Verissimo con Silvia Tofanini e la pubblicazione di foto della coreografa incinta, si trova ora di fronte a una situazione imprevista. Andreas ha condiviso la notizia tramite una storia su Instagram, esprimendo la sua apprensione. Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene e questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi mesi. Questa mattina però purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Sebbene non abbia fornito dettagli specifici, ha accennato a qualcosa che ha preoccupato i medici durante l'ultima visita. La gravidanza della coppia è diventata di interesse pubblico e i due hanno ringraziato i fan per il sostegno e l'affetto ricevuti. Resta ora l'attesa per ulteriori sviluppi e chiarimenti sulla situazione nelle prossime giornate, con i follower e i fan in attesa di notizie rassicuranti.